Siamo al seminario di Stop Secret, Supermercato Italia, riforme e novità nell'acquisto e gestione dei crediti NPL. Con il direttore editoriale di Stop Secret gli chiediamo quali sono gli obiettivi e a chi è rivolto questo seminario? Il seminario è rivolto a tutta la filiera della gestione e del recupero del credito, dai fondi di investimento in primis che investono in Italia per l'acquisizione di questi portafogli, ne abbiamo ben una ventina in sala, alle società di recupero e gestione del credito, nella platea abbiamo banche, società di investigazione e informazioni sul credito. È una giornata sicuramente ricca di contenuti dove i nostri relatori trasmetteranno il loro know-how affinché si possa migliorare la gestione e il recupero degli NPL. Infatti il panorama normativo è recentemente cambiato? Sì, il panorama normativo è recentemente cambiato, tant'è che oggi focalizzeremo un bel po' di attenzione sulle riforme che recentemente sono state adottate e che impattano sulla gestione del credito. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.